Per la nostra parte del martedì dedicata all'economia abbiamo ospite Marco Giglioli che è presidente della sezione meccanica, meccatronica e impianti di Confindustria Trento. Buongiorno Giglioli innanzitutto. Buongiorno, buongiorno anche a lei e ai telespettatori che ci stanno seguendo. Ci renda un po' l'idea di quante aziende rappresentate in Trentino e che tipo di aziende rappresentate? La sezione che presiedo, la sezione meccanica, meccatronica e impianti, conta circa 100 aziende associate per un numero considerevole di collaboratori, sono 6.300 i dipendenti delle nostre aziende che occupano, diciamo, gran parte di quello che è il settore della meccanica che in senso lato nella nostra provincia occupa circa 10.000 addetti. Com'è andato il 2020 appunto per il vostro settore? Lo sappiamo come è stato insomma il 2020, non possiamo nascondercelo, ma appunto ci faccia un po' il punto della situazione. Sì, il secondo trimestre naturalmente lacrime e sangue. C'è stato un crollo della produzione, un crollo del fatturato, poi c'è stata una ripresa importante nel terzo trimestre. Direi che davanti a un'altalenanza di numeri che riguardano il fatturato e la marginalità, abbiamo saputo però mantenere costante l'occupazione. Ecco, il nostro settore, forse un po' più fortunato rispetto ad altri settori merceologici, faccio riferimento al turismo, al settore alberghiero che sicuramente sono stati più penalizzati, ecco, viviamo comunque un momento complesso, ma tutto sommato l'occupazione, che è una cosa più importante a cui teniamo, insomma le aziende sono fatte di persone, ha tenuto in maniera importante. Guardando i vari settori che rappresentate, è andata, non so, meglio la meccanica, la meccatronica, gli impianti, c'è stato uno dei settori che è andato meglio, qualcuno che è andato peggio? Beh, possiamo magari fare riferimento a una recente indagine fatta sul settore della meccatronica, che mette in evidenza come le aziende che hanno investito in Industria 4.0, anche grazie al supporto della nostra associazione e al Promfacility, a Rovereto, che comunque fanno riferimento a tutto quello che accade anche nel polo della meccatronica, hanno saputo meglio vincere le sfide di un mercato sempre più competitivo. Vediamo recenti successi della ZF di Arco, che dal 2015 ad oggi ha incrementato dell'80% il fatturato e l'occupazione del 20%. Ecco, non è un dato che possa essere considerato valido un po' per tutte le aziende, però sicuramente oggi investire in digitalizzazione è fondamentale. Un altro settore in cui ho competenza, perché la mia azienda viene da questo settore, è il settore dell'impiantistica. Oggi naturalmente il tema quotidiano ricorrente è il super bonus, il super bonus 110%. Ecco, questa è un'iniziativa dovuta alla necessità di investire nelle tecnologie sostenibili, nell'efficientamento energetico delle nostre abitazioni, che sicuramente aiuta ad uscire da un impasse in cui tutto il sistema edilizio purtroppo si trovava a permanere negli ultimi anni. Il settore invece della meccanica, quello tra virgolette più tradizionale, come è andato? Questo è un settore che richiede... Ecco, il problema ricorrente che avevamo in passato, che c'è ancora oggi, è quello di disporre di personale qualificato. Stiamo interloquendo efficacemente con l'università perché si perfezioni un percorso, quello della laurea in meccatronica, che aiuta le aziende anche che appartengono al settore più tradizionale, quello della meccanica, a trovare personale qualificato. Non solo in ambito universitario, ma anche con le scuole professionali e con le scuole superiori, dialoghiamo costantemente per perfezionare quelli che sono i programmi scolastici in funzione dei profili di cui abbiamo tanto bisogno. La sua sezione si è affacciata a questo nuovo anno, al 2021, all'insegna di una denominazione originale. Qual è la razio alla base di questa scelta? Sì, una volta questa sezione si chiamava semplicemente sezione meccanica. Quello che ci unisce sicuramente è il contratto. Tutti quanti aderiamo, tutte le aziende che fanno parte della mia sezione aderiscono al contratto della sezione meccanica industria, che è stato poi recentemente anche aggiornato e quindi è uno degli elementi che ci lega. Però in realtà svolgiamo ciascuno nella propria impresa attività diverse. Quindi elementi comuni, fare networking, quello di conoscerci l'uno con l'altro, perché fortunatamente il nostro è un territorio in cui le relazioni interpersonali hanno ancora un grande valore. Affrontare insieme tematiche di interesse comune nei confronti delle controparti. Abbiamo bisogno di personale, bene, allora in una sezione compatta che interagisce, che ragiona con l'università per formare nuovi profili, l'esempio che ho fatto poco fa. Ma anche affrontare insieme il tema dell'internazionalizzazione. Il nostro territorio è contraddistinto da imprese che non sono tutte di grande dimensione. Abbiamo aziende importanti di cui siamo orgogliosi, però insomma il 90% delle nostre imprese hanno dimensioni piuttosto contenute. Ecco, fare massa critica insieme ci dà più forza per proporci anche sui mercati internazionali. Ne ha fatto accenno poco fa alla questione del contratto che è stato rinnovato al termine di un percorso negoziale che è durato veramente molto tempo. è il contratto nazionale per il lavoro dei metallmeccanici e degli installatori di impianti. È stato un percorso duro, difficile e lungo? Certo, il gioco delle parti con i sindacati, con le parti sociali, porta via parecchio tempo, però fortunatamente sia a livello locale che a livello centrale siamo ben rappresentati. e il risultato di questa contrattazione tutto sommato ci soddisfa. Ci saranno previsti aumenti salariali nei prossimi anni, ma che sono per lo più piuttosto sostenibili. C'è una riforma importante rispetto a quelli che sono gli inquadramenti contrattuali, cose che riusciremo sicuramente a gestire in un clima collaborativo con i sindacati locali e con le nostre forze di lavoro, con i nostri collaboratori. Parliamo, ne ha già accennato lei, del settore proprio della meccatronica che è stata recentemente oggetto proprio di una importante ricerca di lavoro. Sì, intanto ha stupito me stesso i risultati di questa indagine. Il fatto è che sul nostro territorio siano presenti 290 imprese che si configurano come meccatroniche per codice a teco, per tipo di settore merceologico, per mercati. Ecco, imprese che hanno tratto massimo vantaggio, molte di queste, da quella che è l'industria 4.0, quindi la digitalizzazione dei processi, ed è il supporto che la nostra associazione e altre istituzioni locali sanno dare alle imprese che vogliono seguire un percorso di ammodernamento dei processi e dei prodotti. È un modo, questo, in cui abbiamo fatto sistema con le migliori strutture della provincia, la Prom Facility, Trentino Sviluppo, in un dialogo molto efficace, molto produttivo, che contraddistingue l'azione della nostra associazione con queste grandi istituzioni. La partnership con il Polo è stata strategica nella maturazione proprio di una nuova generazione di produzioni locali all'avanguardia sull'automazione industriale. Sì, però, ecco, vorrei anche dire che non è solo un rapporto di aiuto che riceviamo dalla provincia, dalle organizzazioni, delle strutture che sono state create, perché in questo ci sono le nostre stesse imprese che investono molto. Lo stesso rapporto è stato generato grazie al contributo di otto aziende associate che hanno investito in questa indagine e che quotidianamente si impegnano affinché il nostro territorio sia all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Ce la possiamo giocare sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Abbiamo un territorio che è contraddistinto da un'ottima reputazione. Chi viene dal Trentino, i prodotti che vengono dal Trentino hanno fama di essere costruiti bene, fatti bene, ma questo grazie anche al lavoro delle imprese e degli imprenditori che quotidianamente si impegnano. Indubbiamente. Nella partita della cosiddetta ripartenza gli investimenti del pubblico e del privato devono fare i conti con il mantra, perché è proprio un mantra quello della sostenibilità. Sì, una parte delle nostre aziende si occupa di impianti, sostenibilità per noi è sicuramente il decreto rilancio, il super bonus, è un intervento che dà sostegno alle imprese che si occupano non solo di impianti ma di isolamento termico di edifici, di edilizia in genere. Adesso assisteremo nei prossimi mesi anche grazie alla rapidità con cui è stato messo mano al regolamento urbanistico nella nostra provincia e questo è anche frutto di una particolare sensibilità della politica ma anche della capacità delle imprese di essere propositive rispetto alle tematiche relative che riguardano questo regolamento urbanistico che è stato modificato proprio perché ci sono sempre più interventi che si possano effettuare nell'ambito del super bonus che peraltro il tema della cessione del credito non riguarderà solo questo tipo di beneficio momentaneo ma accompagnerà l'attività anche nei prossimi anni. Quindi è un modello che è stato attivato recentemente ma che proseguirà nel tempo. Vedremo l'apertura di molti cantieri. Ecco, questo è una cosa molto positiva perché nel nostro territorio l'edilizia si sa che ha un ruolo molto importante. Il 2021 come si è aperto per i vostri settori per il settore della meccanica, della meccatronica e degli impianti e quali le prospettive per i prossimi, diciamo così, 6-8 mesi? Io lancio un segnale di ottimismo guardi, è un po' nella natura dell'imprenditore quella di guardare avanti e vedere che siamo in primavera forse è la stagione in cui è più facile essere ottimisti. Ecco, io guardo avanti a una situazione in cui dal punto di vista sanitario ci sarà più tranquillità nello spostamento, nel spostare le persone nell'immaginare di ritornare a contatti personali e anche a una fase di ripartenza dell'economia tutta. È difficile oggi trovare personale quindi è un momento in cui vedo che molte persone stanno crescendo molte aziende stanno crescendo sono ricerche di personale di tutti i generi meno forse sicuramente quello legato al mondo del turismo però speriamo che anche quel settore possa essere trascinato positivamente nel momento in cui dal punto di vista sanitario ci troveremo una situazione un po' più stabile e sicura. Ci renda l'idea di quali sono le figure maggiormente ricercate magari anche proprio per chi ci segue da casa in questo momento. Questa è la prima domanda. La seconda domanda che le volevo fare è se lei dovesse consigliare a un ragazzo che sta facendo la terza media di fare una scuola una scuola che sicuramente poi gli può dare delle buone chance di occupazione cosa consiglierebbe? Tutte le scuole tecniche è il mio ambito quindi in questo credo moltissimo insomma quindi periti ma anche ragazzi che provengono da scuole professionali ai giovani dico studiate preparatevi perché c'è bisogno di quelle competenze di base che ti insegnano a scuola poi verrai in impresa in azienda e dovrai imparare tante cose nuove però sicuramente una formazione scolastica rende i giovani diversi vediamo la differenza che c'è da chi proviene da un percorso universitario rispetto a una scuola di alto livello però c'è bisogno diciamo di una aderenza di aspetti più tecnici siamo in un momento storico in cui per fortuna il manifatturiero ha ancora una grande importanza ricordo che l'industria conta circa il 30% del valore aggiunto all'interno del nostro territorio quindi ci sono ampi spazi di occupazione Grazie, grazie infinite a Marco Giglioli che è il presidente della sezione meccanica, meccatronica e impianti di Confindustria Trento che ci ha tracciato proprio questo quadro per quello che è stato il 2020 e soprattutto le prospettive speriamo, speriamo ottimistiche per il 2021, no Giglioli? Sì, 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 ottimismo Bene, tornerà a raccontarcelo magari fra qualche mese, no? Speriamo veramente che questo ottimismo venga premiato adesso invece come tutti martedì mattina andiamo in cucina andiamo in cucina con il nostro Davide Zambelli, food blogger e vediamo quali...